Intanto ci dica subito una cosa, perché stamattina Salvini, appunto lo sentivamo, dice no, solo 50-50 quei 16 miliardi, che c'è? Un tiro e molla col Movimento 5 Stelle su questo? No, direi un'importante novità perché le misure vanno all'interno di un unico fondo da 16 miliardi, quindi tutto quello che riguarda il welfare e le pensioni avrà un unico fondo e Matteo Salvini, come Di Maio, hanno voluto questa mattina ripetere che la manovra per i due movimenti sarà di 8 miliardi l'uno. Logico che noi puntiamo alla quota 100, quindi ripetiamo a chi ci ascolta 62 anni e 38 anni di contributi, tenendo conto dei precoci, di quelli che hanno cominciato a lavorare a 19 anni, ce ne sono ancora tanti, con questi con 41 anni riusciranno ad andare in pensione, anche se meno di 62 anni, quindi è una cosa che avevamo ripetuto sempre in campagna elettorale durante questi mesi di governo e quindi si va avanti verso una proposta che è molto concreta, che manderà in pensione centinaia e migliaia di pensionati, dando spazio, anche se ovviamente qualcuno continua a ripetere che non è automatico, ma in realtà lo è, dando spazio a nuovi giovani per le assunzioni nella pubblica amministrazione e anche nel privato. Aggiungiamo che proprio ieri, e questo è un piacere essendo stato io sindaco per molti anni in due comuni diversi, che ieri la ragioneria finalmente, dopo l'emendamento e il mille proroghe che è stato approvato due settimane fa, ha dato via libera all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali, ci si batteva da molti anni, quindi gli enti locali potranno utilizzare gli avanzi che erano bloccati, ovviamente per un'azione di rilancio e investimenti nel territorio. Una politica direi attiva perché i vincoli europei e il patto di stabilità scaricato dai passati governi, tutti i passati governi sugli enti locali, ha provocato una stretta negli investimenti, scuole, piste ciclabili, infrastrutture, impianti sportivi, molto pesante, e quindi direi che è un rilancio importante. E' giustamente per mettere l'accento su questo essendo stato sindaco, ho fatto bene a dirlo. Mi dice solo una cosa, intanto do due notizie, Milano aveva aperto un lievissimo calo oggi e lo spread invece era calato a 274 punti. Direi bene perché... Gli occhiuti vigilanti dell'Europa, come accoglieranno dal suo punto di vista questo quadro? Perché poi ancora molte cose ci sono da scrivere. Io penso positivamente perché poi guardiamo quello che hanno fatto anche gli altri stati europei, se pensiamo alla Francia, ma anche alla Spagna. A lei non c'è spetta una bocciatura della manovra? Perché molti dicono che è già bocciata questa manovra. Direi di no perché intanto verrà valutata la manovra dove ci sono importanti tagli delle tasse e misure di sostegno all'occupazione e al welfare. E dopo bisogna anche considerare il fatto che ovviamente le attese, le aspettative, se c'è stata una scelta importante di fissare il deficit su 2019 al 2,4 e poi una progressiva discesa fino all'1,8 nel 2021, ovviamente le aspettative e i mercati valuteranno positivamente questa scelta. Questa però è una grandissima, formidabile, qualcuno ha detto incosciente, scommessa, perché voi scommettete sulla crescita per sostenere anche le vostre misure. Sappiamo quanto è difficile fare crescita in Italia. Si guarda il futuro con le aspettative, ma si guarda anche il passato. I passati governi hanno sempre chiuso con deficit molto più alti rispetto al 2,4. Quindi dopo alla fine anche chi adesso urla e alza le barricate deve rendersi conto e guardare quello che è successo in passato quando il deficit è stato anche al 2,9. Allora, intanto voglio presentarvi gli altri.